C'era una volta un vecchietto, che c'aveva una capannuccia, non c'aveva un figlio di fare dove mangiare, un tau. C'era tanto freddo. Poi, di seguito, di seguito è tornato a sfiume, ha trovato un pesciolino di azienda. E poi, corri e vedrai. No, cosa gli ha detto il vecchietto al pesciolino? A mia moglie vuole tante cose. No, 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 no. Vuole un palazzo. Allora, corri e vedrai. Allora, ha trovato un palazzo. Gli ha detto, lo vuoi un palazzo? No. No. Raccontala tu, va bene. Tu non me la racconti giusta. C'era una volta. Sì. Un vecchietto. Tutto che non è un po' piano, la carina. È chiusa. Papà. Ehi. Poi la posso fare anche io? Certo, amore. La posso riprendere in tutte le stanze? Poi ci facciamo un giro. Va bene. Avanti. C'era una volta, un vecchietto, che c'aveva tanto freddo. Era vecchiettissimo. C'era una capannuzza, che era tutta di grande. Non c'aveva da mangiare, c'era tanto freddo. Allora, è andato a fiume, ha trovato un pesciolino di agente e ci ha detto così. Pesciolino di agente, per favore, me lo puoi dare un castello. Carri e vedrai. È tornato, tornato. Nel fiume? A casa, tornato. No, no. A casa. Ma che non segui? Ma io non lo so. Nel palazzo. Allora, ho trovato un palazzo. E ho abbassato la porta. E quando ho aprito la porta, c'era la moglie arrabbiatissima. Perché? E ci dici, certo, volevo un castello. Voglio un castello. Non voglio un palazzo. Non voglio un calazzo. E ho un calazzo. Allora, è tornato, è tornato a fiume. Ok. E ci ha detto, ha facciato un po' la testolina, il pesciolino. Il pesciolino. Il pesciolino. Il pesciolino. Di? Allora. Il pesciolino di? Argento. Il pesciolino di Argento. Allora. ti ha detto a vecchietto. Non vuole un palazzo. Per favore. Mi vuoi dare un castello. Allora. Corri e vedrai. È tornato, è tornato. A casa. Nel palazzo. È tornato. Non nel palazzo. Nel castello. Nel castello. È trovato il castello. Bus, bus. Allora, ha trovato la sua moglie arrabbiatissima. Perché voleva una villa. Voglio una villa. Non voglio un castello. Allora. Non era mai contenta. È tornato. È tornato al fiume. È tornato al fiume. Poi corri e corri. Ha trovato il pesciolino di Argento. Corri e vedrai. Ha trovato una villa. Allora. Poi è bussato, bussato la villa. Alla villa. Alla porta. E poi. Sua moglie. Sua moglie era arrabbiatissima. Poi è tornato, è tornato a fiume. Che voleva sua moglie allora? Un'altra cosa? Il Dio. Il Dio. Allora. Allora il pesciolino di Argento. Era un segreto. Allora faceva magico. È tornato a casa. Ha detto il pesciolino così. Corri e vedrai. Allora. Ci aveva detto uno scherzo. E c'era di nuovo una capannuccia. Certo, perché siccome la signora non era mai contenta, il pesciolino di Argento gli aveva dato la villa, gli aveva dato il castello, il palazzo. Dice, ah sì, non le vuoi? Allora torna nella tua capannuccia di canne. E si è finita? Bellissima. Bravissima. Saluta. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Iphone. Iphone.